Mi è capitata una cosa curiosa settimane fa. Ho trovato il diario di una bambina. Io quel diario l'ho ottenuto perché quella vita mi piaceva. Quanto segue, è ispirata a una storia vera. La storia vera è ispirata a una storia falsa. La storia falsa non è molto ispirata. Oh come ti ingani se pensi che l'anima non andrà a finire. Bisogna morire, bisogna morire.